Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Un sistema innovativo per il trattamento del tumore della prostata è un buon sistema per tentare di evitare l'intervento chirurgico. Trattamenti ad altissima precisione e trattamenti che possono essere anche più brevi di quelli tradizionali per il trattamento del tumore della prostata. Andrea Martino, poi torniamo in studio. Abbiamo scoperto il PSA un po' alto e allora abbiamo deciso di andare a fondo e abbiamo scoperto che c'era questo tumore e abbiamo deciso di venire qua. E qui mi hanno coccolato, mi hanno fatto di tutto e di più e oggi sono contentissimo perché funziona secondo me perché nel giro di tre settimane il PSA è dimesato. Per combattere il tumore alla prostata il signor Furlan è stato sottoposto ad un trattamento di radioterapia di precisione di ultima generazione con questa apparecchiatura, la Unity, la prima in Italia. Quella che vedete è una delle apparecchiature, forse la più moderna di radioterapia al momento disponibile. In particolare integra una risonanza magnetica ad alto campo, significa con le stesse capacità che ha una risonanza in ambito diagnostico, per identificare la sede che deve essere colpita e che deve essere opportunamente trattata con una radioterapia di alta precisione. Di queste apparecchiature ce ne sono solo una decina nel mondo. È possibile trattare tumori della prostata, quelli circondati da tessuti molli, ma anche altri diversi tipi di patologie. Infatti noi abbiamo intenzione di trattare neoplasie del pancreas non operabili che possono giovarsi di questo tipo di approccio proprio a scopo curativo o precedente all'intervento chirurgico, proprio per rendere l'intervento meno invasivo e meno mutilante per il paziente. Oppure i pazienti, ad esempio, oligometastatici. C'è quei pazienti già in fase avanzata di malattia, che hanno però poche localizzazioni, stanno in buone condizioni generali e su queste sedi di malattie la nostra finalità è con la precisione della risonanza magnetica che ci fa vedere il sito da colpire, possiamo in un certo qual modo dare delle dosi che non sono più dosi palliative, ma delle dosi che hanno delle ambizioni maggiori, quelle c'è di eradicare localmente la malattia tumorale, anche se in fase metastatica. È possibile trattare il tumore della prostata localizzato con cinque sedute di circa un'ora ciascuna. Dicevano sempre dei 30 ai 40 minuti, qualche volta si andava anche oltre, perché secondo come si è fisicamente, perché c'è la viscicca, c'è qua, c'è là, ci sono tante cose, comunque è andato tutto bene, al massimo si stavano 50 minuti, 60 insomma. È come se fosse un trattamento personalizzato, seduta per seduta. La radioterapia invece tradizionale ha un programma che parte il primo giorno e che poi viene ripetuto per tutte le sedute in modo identico. Qui invece giorno per giorno, identificando specificamente con nitidezza la sede da colpire, possiamo essere molto più precisi. Sul tumore della prostata abbiamo un vantaggio sostanziale, riusciamo a capire la posizione della prostata, che ovviamente si può spostare giorno per giorno, in base allo stato di riempimento della vescica, in base allo stato di riempimento del retto, che sono degli organi che si trovano proprio vicini a contatto con la prostata. Vedendolo possiamo fare delle correzioni e grazie a queste correzioni possiamo minimizzare il coinvolgimento di questi organi sani riducendo la tossicità e dando il massimo di dose al tumore che ovviamente deve essere curato nel modo più breve possibile. Ad esempio in questo momento una bolla di gas è passata nell'intestino, ha spostato il nostro obiettivo che sarebbe la ghiandola prostatica e abbiamo interrotto il trattamento, quindi abbiamo riposizionato il paziente, abbiamo fatto ripartire la seduta nelle condizioni ideali. Ma rispetto all'intervento chirurgico questo trattamento come si colloca? Questo tipo di trattamento può essere un'alternativa non invasiva all'intervento chirurgico, perché i tassi di guarigione con la radioterapia già convenzionale per alcuni tipi di patologie come il tumore della prostata sono sovrapponibili a quelli della chirurgia. In più con questo tipo di apparecchiatura riduciamo senza problemi il numero di sedute, possiamo essere più precisi, possiamo personalizzare il trattamento seduta per seduta grazie a queste immagini che ci guidano e ci fanno fare le correzioni adeguate e quindi possiamo essere una valida opzione alternativa non invasiva alla chirurgia nell'ambito del tumore prostatico ma anche in altri tipi di tumori.